Tiene la tenda? Sì, stiamo finendo di montare. La stagione che parte in ritardo in riviera, i campeggi di Riccione, che cominciano ad affollarsi. Italiani per il ponte, belgi, francesi, austriaci, tedeschi, tutti con uno sguardo al cielo. Succederà sempre più spesso di assistere al meteo intenso, per questo siamo qui, in camper. Così impacchettiamo tutto subito. Sicurezza, attenzione, le parole d'ordine. Teniamo costantemente monitorato tutti i rami che eventualmente possono essere danneggiati da fenomeni esterni, vento o piogge. E facciamo anche analisi appunto costanti per garantire un'acqua salubre, microbiologicamente sana. Alla fine c'è il mare, ci sono gli eventi, c'è un sacco di gente. In campeggio la vita è più dura, però diciamo che se ti attrezzi va bene. Le persone che avevano inizialmente disdetto o comunque ci chiamavano per sapere informazioni hanno riprenotato e se posso dire rispetto all'anno scorso abbiamo più vigore di prenotazioni. Oltre la metà hanno solo posticipato un po' la vacanza. Prime risposte qui all'allarme della Confesercenti. I 250.000 pernottamenti sfumati col maltempo, i 35 milioni di fatturato bruciati in 10 giorni in tutta la Romagna. Meno le presenze nel Ravennate dove per l'Arpa e diverse acque cominciano a tornare balneabili. Per salvare il turismo ci vorrà tutto lo spirito dei campeggiatori. Bisogna essere un po' avventurieri, non bisogna mai demoralizzarsi.